Adesso è il momento di fare lobby. E parte il pressing parlamentare sul premier Mario Draghi. È il senatore Udici Antonio De Poli il primo a interrogazione il presidente del Consiglio. Il governo nomini un commissario ad hoc per l'ospedale di Padova con l'obiettivo di rendere rapide le procedure e dimezzare i tempi di realizzazione di un'opera strategica per la sanità italiana, ha spiegato. Il modello Ponte Morandi ci ha dimostrato che quando si vuole, si spinge sull'acceleratore per raggiungere i risultati a proseguito dei poli e ora dobbiamo farlo. La sanità non può aspettare. L'ospedale di Padova è opera strategica che guarda al futuro. Le istituzioni dunque devono dimostrare di stare dalla parte di chi sta conducendo una partita che come ho sempre detto, non ha colori politici. La salute dei cittadini viene prima di tutto. Una partita bipartisan che si giocherà nei prossimi mesi. È stato lo stesso governatore leghista Luca Zai ad appellarsi a Draghi per avere una gestione commissariale. Subito seguito dal sindaco Sergio Giordani che ha mosso tutte le sue influenze nel campo del centro-sinistra. Ed anche dal punto di vista universitario si proverà a spingere i tecnici più vicini al Premier. Puntando anche su un attaccamento territoriale. È noto che Draghi conosce e frequenta Padova. Si sa anche che quando ha incontrato Giordani a Palazzo Chigi ha chiesto proprio informazioni sulla localizzazione del nuovo ospedale. Inoltre apprezza il lavoro dell'Ateneo e sa bene il valore dell'eccellenza della sanità padovana. Insomma, tanti motivi che possono giustificare un interessamento diretto del Premier.